Da diari di Anna Frank, ecco che cos'è difficile in questa illocale. Gli ideali, i sogni, le belle aspettative, non fanno pure in tempo a nascere. E già vengono colpiti e completamente devastati dalla realtà più più bella. E' molto strano che io non abbia abbassato i miei sogni, perché sembrano assurdi e irrealizzati. E invece me li tengo stretti, nonostante tutto, perché credo ancora nell'intima volontà dell'uomo. Mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Io vedo, vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi. Sono partecipe del dolore di milioni di persone. Eppure, eppure, quando guardi il cielo, penso che tutto tornerà a volgersi al bene. Che anche questa durezza spietata finirà, e che nel mondo torneranno tranquillità e pace. Nel frattempo, devo conservare altri, i miei ideali, che forse, nei tempi adegno, si potranno ancora realizzare. Vostra, Anna, Cante. Grazie.